Ognuno di noi può combattere contro la crisi climatica. In che modo? Prendendo un tram, o meglio ancora, andando a lavoro o in bicicletta. In questo modo si risparmia energia e si tagliano le emissioni. È questo il messaggio scelto per la nuova edizione della Settimana Europea della Mobilità, che si tiene dal 16 al 22 settembre in tutti i paesi dell'UE. Una settimana di sensibilizzazione sulla necessità di modificare le nostre abitudini di mobilità, perché i trasporti rappresentano il secondo settore più inquinante del vecchio continente e dunque bisogna lavorare ancora molto per raggiungere l'obiettivo europeo di emissioni zero entro il 2050, come previsto dal Green Deal. A partecipare alla Settimana Europea della Mobilità sono soprattutto le città grandi e piccole, perché è dai comuni che deve partire la rivoluzione green nei trasporti. Tanti gli eventi previsti in Italia. A Roma, per esempio, oltre a tante manifestazioni outdoor, verranno presentati al pubblico nuovi progetti di mobilità sostenibile, come la nuova pista ciclopedonale e lo scavalco del Gra e la nuova stazione di Porta Metronia della linea C.